Voi siete Francesco Rosi il regista, io vi ho riconosciuto, è vero? Ma questi film su Napoli che li facciamo a fare? Io ho visto uno, ho visto tutti, io voglio una camorra, la droga, la muina. Questo ci passa il commento. Omaggi a Francesco Rosi, Giacomo Furia, un ricordo di Pino Daniele mediante le musiche di ricomincio da tre dell'amico Massimo Troisi, presentato al Metropolitan di Napoli Il Cinema in Campania. Serie di rassegne, incontri, convegni di studio e spettacoli sul tema in pellicola, che si terrà da questo giugno sino a dicembre 2015. Il progetto si propone di valorizzare, far conoscere e far vedere quello che Napoli e la Campania hanno rappresentato nell'industria del cinema. Ascoltiamo il presidente dell'Agis regionale Luigi Grispello e lo storico del cinema Mario Franco, autore del cinemontaggio Passioni, risate e canzoni nel cinema napoletano, presentato alla conferenza. Il titolo dice un po' tutto. In sostanza si è voluto richiamare l'attenzione sul fatto come Napoli e il cinema napoletano sia molto importante nella storia del cinema. Fin dall'inizio Napoli è stata all'avanguardia, sono state realizzate le prime sale a Napoli, ci sono stati i primi produttori cinematografici e ancora oggi Napoli è un'eccellenza in questa arte. Basta pensare ai nostri attori, ai nostri produttori che vincono premi Oscar, scendimento, vincono premi a Cannes. Quindi diciamo che c'è una lunga tradizione, Napoli è sempre stata un'eccellenza nel cinema. Moltissimi film che avremmo voluto avere in rassegna in realtà non sono più disponibili o non ci sono più copie oppure non si sa bene i diritti a chi appartengono adesso. Era però indispensabile far vedere un ventaglio ampio di film perché la cinematografia napoletana dagli anni dieci fino ad oggi è stata ricchissima.